we are, we are the saints, we signed our life away, doesn't matter what you think ah, ti stavo aspettando qua all'ingresso però se sei al garage non l'ho scelto io, un garage lunghi ok, allora ti vengo a prendere lì salga che andiamo in missione ho modificato anche questa mi sa che non è bi posto però esattamente dannazione, aspetta, ho un'altra macchina che possiamo usare questa è tua, questa jeep qua la jeep? questa vespa è tua si è mia la vespa e come fai ad apparirti qua? basta che andavi nel garage anziché andare a casa ah io ho perso il mio furgone tutto rosa eccola qua quella macchina invece dove sbuca? quale? questa qua gialla l'ho presa dalla cosa dove hai messo la mia vespa? non l'ho toccata ah ok, scomparso li vedi questi qui di fianco? si perché? no, cosa scusa? perché stavano ballando? ballate ora, stronz ma sei di spuntzoni? ma che cazzo? attiva la missione come si attiva? no, tab ah ok tab, missione ah, perché? ho cominciato a sterzare a destra così a caso dove dobbiamo andare? guarda il QG dei Saints ma siamo qua torna all'alloggio come se fossimo molto lontani prego può scendere ma che non la metti in vera? no, la lascio in me frega un cacchio posso modificarla quando voglio all'attico vai alla lobby no dobbiamo parlare col tipo aia ehi Pierce pierce check it out boss andiamo madonna salve salve siamo arrivaggiati bene devo dire questa volta ma se abbiamo due proietti ah è vero? se sparassi a caso? perché l'hai fatto? ora ho un solo proietti beh, tu ne hai due, no? non ne ho due ne ho spiegato uno adesso perfetto allora siamo uno un proiettivo a ciascuno bene come giocare in single play no, ci abbiamo incinta minchia l'ho preso prima che arrivasse non sparare ai nostri però che perdono vita là in fondo mamma mia che mira penosa che abbiamo destra o sinistra? davanti ovviamente non riesco a mirare c'è il ponte ci sei tu davanti non vedo ok no aveva poca vita dannazione ho sparato a Pierce ok, lui era adesso sappiamo da dove arrivano quindi preparati a sparare in fondo a destra e ovviamente li manchiamo anche se sappiamo da dove arrivano mi faccio voglio piacere però al semaforo preso preso minchia guarda quei due tizi erano ancora ombra che si bugga ho preso il semaforo io non vedo adesso devi sparare tu attento adesso che rischiamo di sparargli ancora dannazione il palo della luce piano io non vedo niente adesso non è anch'io oh adesso ci vedo no povero scuola bus perchè hai tolto vita a Pierce non è mancato ah li ma porca troia non ne prendo neanche uno non sparare a no non sparare a no spero che non possiamo neanche fare fare questi punti di agitazione se no è un casino no infatti proseguiamo tranquillo questo è l'ultimo tentativo cioè l'ultimo volta che faremo questa cosa mi concentro basta un colpo che poi esplodono da soli visto un colpo hai mancata lo so però tu l'hai preso eh meno male che ci sono io ora sono tutti tuoi io non vedo un tubo no ha preso il pallo della luce non vedo niente cioè io vedo la tua spalla destra è il massimo che riesco a vedere hai preso anche Pierce eh perché è scemo la sua macchina che esplodeva cosa fai? boh attento ora prossimo fra 3 2 1 ora quindi di topirsi non per i coglioni no non sparare se si avvicinano troppo non voglio sparare e rischiamo di fare più danni a Pierce che non il resto ok è più lontano di quanto siamo mai arrivati esplode su Pierce ovviamente su Pierce su Pierce eh un blocco stradale quello là davanti ok ero 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 un blocco stradale perché si sta fermando dannazione quel coso della luce hai rischiato tantissimo no sono stato artizio si ho capito ma Pierce era tipo a un centimetro mi sa che lo stanno inseguendo eh vabbè ma è impossibile ma non c'è nessuno l'abbiamo preso non ci credo l'abbiamo preso iiii ma così cattivi proprio non mi voglio cecchinare oh questo si chiama bene io un cecchino un colpo fa spostare la macchina no non un colpo anch'io lo stavo prendendo ricarica in corso da dove arrivano da davanti ovviamente sto ricaricando destra oh headshot sinistra non hanno speranza troppo già troppo forti grazie a Pierce fori Pierce balla per me Pierce e devo ricaricare perchè ho sparato i miei proiettili inutilmente perchè fai rumori strani che rumori strani senti ho sentito no il tuo personaggio fa no io non sento niente il mio tipo ha detto not bad e tu l'ho preso mentre guidava oh my god guarda l'azione vuoi fare il cerchino da grande si direi che ho trovato la mia aspirazione sai che ho una granata possiamo tirarla tipo 10 km di granata yeah angelo custode è completata like a mouse denaro 2000 rispetto quasi livello 7 madonna chi è morto io perchè boh sei nato morto abita al massimo eh già cos'è eh possiamo dare tango custode è la missione che abbiamo fatto cioè si può rifare volendo abbiamo una nuova missione trafficante 220 metri procuro un'auto scusi di per tutti grazie ok grazie ok 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 cos'è che dobbiamo fare non lo stavo guardando cosa dobbiamo fare non anch'io sto sparando è impegnato a guidare male incontro a pierce incontra pierce e basta va bene è sufficiente incontrare pierce scopo 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 devo andare abbiamo cambiato macchina si guido io sto guidando una salsa abbastanza piccante perchè è una pistola diversa hai capito ari si ho capito ma perchè è una pistola diversa mai capito ci stanno inseguendo che manovra sono arrivato pierce proteggi lo spacciatore e il compratore io non ho il mio penetratore what the fuck si e ci ha cambiato tutte le armi proteggi sopra di noi c'è un elicottero ci puoi pensare tu non lo ve ecco devi risalire in macchina proprio eh cortesemente stanno continuando a sparare a me quel cecchino quindi se ti muovi dannazione vai fuori vai wasabi ammilo shotgun no non è proprio no 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 na 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 la musica classica andando sulle seguimenti bellissimo eee eee sinistra sinistra si lo so stai per finire giù dal fuori no è una vita pericolosa ah ok fuori dal burrone destra destra c'è un ingresso bravo Tengo a bada sti tizi. Tu vai a fare l'affare. Ok, una macchina della polizia mi ha appena tirato sotto. Mi sa che ti devo proteggiare anche dalla polizia. Posso riavere la mia pistola? Gentilmente no. Ehi, sono livellato. Non posso cambiare pistola. Che punto è lo scambio gentile di oggetti? Ah, proteggi lo spacciatore mentre torna a casa. Proteggilo. Proteggilo. Ti preoccupare? Eh? Non ti preoccupare, tu vai. Mi copro. Ho una macchina un pochino più potente. Ok, tu. Stai andando da dato sbagliato. Chi è che la macchina è più potente, scusa? Eh, io. Adesso ti raggiungo. Sì, ok, ma io non ho le gomme. Ho un piccolo problema di gomme. No, non ti raggiungo, andiamo uguali. Sono arrivato. Vai! Sbrigati. Oh, la polizia mi ammazza. Run! Cosa? Sì. A presto. Grazie.